Ciao a tutti, attualmente sto girando un video urgente. Come dice il titolo di oggi, c'è qualcuno che sta cercando di impersonificare il mio account TikTok. Quindi volevo informarvi tutti. Per prima cosa, ho già segnalato l'appropriazione impropria all'amministrazione di TikTok. Tuttavia, non sto facendo progressi a causa di risposte che indicano nessun problema. Ho inviato un messaggio a questa persona, ma ovviamente non ho ricevuto risposta. Questo è l'account falso, quindi vi chiedo di segnalare l'appropriazione impropria all'amministrazione di TikTok. Sto girando questo video per attirare l'attenzione, perché alcuni video di questo falso account hanno ottenuto molte visualizzazioni. E il numero di persone che seguono l'account sta aumentando. Sono pure occupato che, impersonandomi questo falso account, possa inviare messaggi. E quindi avviso tutti voi, non rispondete mai a richiesta di denaro o informazioni personali provenienti da messaggi. In particolare, ora sto facendo tour privati, quindi potrebbe esserci una truffa che coinvolge il pagamento anticipato per il tour. Inoltre, non credete a commenti che possono danneggiare la mia immagine. Non sono io. Se ricevete un messaggio, per favore fate uno screenshot e informate anche me e l'amministrazione. Ecco i miei veri account di YouTube, Instagram e il mio account TikTok. Il mio indirizzo email è questo. Non invio messaggi da nessun altro indirizzo. Giappolia.tv chiocciola gmail.com Solo quello attualmente. Potrebbe fare piccole modifiche come cambiare qualcosa dopo la chiocciola, quindi fate attenzione. Inoltre, se qualcuno sa come identificare la persona che ha creato e gestisce questo account falso, sarei felice di ricevere un messaggio privato. Fortunatamente qualcuno ha taggato il mio vero account, quindi ho scoperto questo problema. Per favore diffondete questo messaggio per evitare ulteriori danni. Questo account non è una fanpage e non è assolutamente autorizzato da noi. È molto dannoso perché hanno copiato completamente il nome e il logo del mio account. Non lo perdonerò. Metterò il link dell'account falso nel primo commento. Quindi se avete un account TikTok, per favore segnalatelo. Sono davvero arrabbiato. Chiunque abbia mai fatto un video su YouTube sa quanto tempo e sforzo ci vuole per ideare, modificare e caricare un video. Lavoriamo, ci occupiamo di nostra figlia, facciamo le faccende domestiche e spesso edito video senza dormire. Ma non mi lamento mai perché è tutto per il nostro futuro. Se non mi piacesse potrei semplicemente smettere. Tuttavia è davvero frustrante e sbagliato che qualcuno che non ha fatto nulla possa usare il video che ho faticosamente creato e guadagnare da essi. Ovviamente il problema non è solo il guadagno, ma anche quello è importante. Non bisogna essere ipocriti. Sono ancora più arrabbiato perché non ha collegato i nostri account o canali. Non ci hanno mai contattati prima di creare questo profilo. Quindi è ancora più malizioso. Non posso perdonare il fatto che abbia usato i video che avevo modificato per i contenuti brevi e che avevo intenzione di pubblicare. Alcuni potrebbero dire che è inevitabile con l'uso dei social media, ma dobbiamo esporre questo problema. Non bisogna far finta di nulla. Non è solo inevitabile. Non dobbiamo permettere queste azioni. Non è giusto che le persone oneste siano danneggiate. Penso che dovremmo anche richiedere la divulgazione dei contatti reali di questa gente. Contatterò di nuovo TikTok e ovviamente farò un'altra segnalazione. Quindi vi chiedo gentilmente di aiutarmi a segnalare questo account falso. Vi dico di nuovo, non rispondete mai a richieste di denaro o informazioni personali da account o email falsi. Grazie per aver guardato fino alla fine.